Ragazzi stavo pensando a una cosa, bam, su due piedi, 10.000 like in questo video, entro oggi e domani caricherò l'1v1 del nuovo STR contro il presunto hacker, ovvero la persona che ha fatto lo provino e che è stata appunto accusata di usare hack sul canale. Quindi 1v1, nuove STR, slide contro appunto questo presunto hacker, anche se vedremo se poi durante l'1v1 sarà abbastanza più palese questa cosa. 10.000 mi piace, basta cliccare il tasto, grazie mille a tutti del supporto, sarebbe un bel video, se lo volete con un pollicione insomma riesco a capirlo. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale, mi raccomando cliccate la campanellina così vi rivedete le notifiche, è un click però è importante, magari siete qui per la prima volta, non mi conoscete e va benissimo. Inoltre vi ricordo di inserire il codice creatore Fortnite nello shop Piazzprovini e di taggarmi su Instagram. Quindi ragazzuoli buona visione, vi ricordo nuovamente che nel video sono un pochettino più giù di morale perché mi ero operato da poche ore, per chi non lo sapesse mi sono operato la testa, lo sanno tutti però lo ripeto per chi magari qui ha parlato una volta ci sta giustamente. Mi sono operato la testa, ho un grandissimo taglio dei punti in testa quindi insomma a volte mi facevano male, infatti a volte stavo in silenzio, capitemi raga non è stata un'operazione proprio semplicissima però adesso sto abbastanza meglio. Quindi buona visione. Pianzuali prima di cominciare con il video volevo ricordarvi che c'è finalmente un nuovo contest con Instant Gaming, vi lascio il link in descrizione, nel primo link in descrizione, il primissimo e nel primo commento qui sotto. Cliccate e vi porterà insomma su questa pagina, cliccate qui e scrivete il nome e il gioco che volete voi, può essere GTA, può essere il bundle di Fortnite, io vi consiglio sempre questo perché ha 2000 V-Bucks, tanto potete passare su PC, su dove volete voi non è un problema. Quindi cliccate, cliccate su Let's Go e vi registrate o con Facebook o con Google Plus oppure cliccate qua registrare manualmente. Inserite nome e cognome, fate partecipa, partecipa e cliccate su presentare. È molto semplice e appunto fra 19 giorni ci sarà l'estrazione qui, uscirà qui il nome. Quindi buona fortuna a tutti, vai! No, 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 vai indietro, vai indietro! Want1, want1, wow2, wow2, wow2! Eh però rischi, ah beh sono tutti shieldati è vero. Eh muore muore. C'è il cazzo muore è musica! Zinti, ragazzi! bravo andrea un hp un hp qua no mamma mia no chi mezza la strada prendetemi fredda gg andrea serve questa perciò ok ok capuccio fatto fatto nice periodo il frag gg mi lasciate un'arma per favore mi lasciate un'arma mi lasciate un'arma colpi piccoli colpi piccoli per favore ci date un'arma mini andrea raga muovetevi da qua andate a lottare c'è uno qua uno qua la sera ma cosa sta facendo? raga la seratelo uccidiamolo pucia pucia 25 bianco 25 preso nice nice vai vai pucia 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 vado a prendere il frag di quello no no pusha questo pucia questo è dentro? è qua ci sono ci sono ci sono è sopra WTF dai ho uscito io non c'ho capito fra eh vabbè ragazzi non ho più colpi mi sta fragando oh 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 ma mi volete boxare? dio santo un po' di mess un po' di mess un po' di mess è stato bello guardate gli ultimi dove sono speriamo che c'è un altro team uno a sud no sta venendo forse un altro team che sta venendo da sud da sinistra da sinistra da sinistra è un altro team andatevi a prendere il rift riuscite a prendere il rift? eh si perchè possiamo veloci corre dai rift dritti per ditti non prendete tag si si ha looted c'è la vending dai 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 rega no non è è un è un è anche quasi buono in realtà si 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 che qo che qo che qo vabbè quello quello prende meriti dove non ci sono sono morto ho un iq della madonna lo sai che qua ci può rifullare coi funghi in teoria si si se mi dai i mini ci potremo di funghi entrambi mi va la testa mi fa un po male di tanto ma vabbè è normale mi sono operato quindi c'è è un dolore sopportabile ma è che io ho una osso io del dolore abbastanza altina e quindi ho un po di funghi da me pingati arrivo mi interessa a fermare chag spascio io eh non lo so e hanno speso la stessa cifra perchè non la stessa cifra è quella non sono neanche riusciti ad entrare quindi quindi c'è ah vabbè merda l'hai luttato questo posto si 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 io sono andata andiamo dritti per dritti dove? dritti per dritti dritti per dritti per dritti nel villaggio notturno perchè quello primario se mi va una cifra troppo fuori dal mondo sono sotto quindi io c'ho il glider bug sono morto ragazzi ci muoio iniziate a venirmi incontro perchè ci muoio male ragazzi ragazzi ve l'ho detto iniziate a venirmi incontro niente come l'ho detto pancia raggi per te niente io l'ho detto eh non sei morto si no che stai fa? dove sta andata ni? nico non hai preso la guard fra come no? eh uno zede prendi la guard vai 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 impazzito prendi? vai si ma ti cagliano male zede controllalo zede controllalo che non lo cagliano è impazzito nico nico la vita fra dammi la roba dammi la roba pazzito ti buttami una splash buttami una splash dammi i maz devo arrivare al mio loot devo arrivare al mio loot dammi il mio maz devo arrivare al loot c'ho i mini vieni impazzito sta roba è rischiosissima mi piace 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 Dove cazzo sono? Dove cazzo sono andate sti due? What? Quanta gente c'è qui sopra, ragà? Sono due team Due team sopra di noi Ci hanno ripensato, occhio, ci hanno ripensato la davanti Ok, dobbiamo andare col Venite qua, levatevi Levatevi da me Andiamo ora Ora? In mezzo, unitevi Giampate, giampate 3, 2, 1, via Ho sparato malissimo Le andate, boxiamoci Ti ho preso, ti ho preso, ti ho preso Ti sto dando curati veloce Dobbiamo risarla Minchia l'hanno rotto, che cazzo però Bende roba, un cazzo La stanno cercando Vai, vai 38 Ok, sniper Holdiamoli, holdiamoli Poi dobbiamo tirare una shock Venite da me che la si tappo esattamente come prima Ok, niente Venite, venite, venite Ok, uh, tff Sali, zaide Devo mettermi in mezzo Metti in mezzo, vai Quando vuoi La, la, la Vai La, ok Dov'è il ping di Andrea? Sì Oh, c'è un loot qua So con voi Ok, non è passato niente Andrei, andrei, andrei Andrei, andrei Ma calmati Riuscite a dare della vita al, a Nico? Sì, sì, c'ho, io un caffo La slurph, la slurph No, no, no Dai la slurph, dai la slurph Non mettere il caffo No, 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 no Faccio la slurph, allora io Ok, fatti la slurph, vai, vai, vai Dobbiamo si tappare una shock Eh, buono, buono Buona No, aspetta, possiamo turnare un po' se che non è Andra Sì, sì Ok, ma usiamo una shock da qua, va, fra Ma filati, mi lascia perdere Eh, ma è meglio usarla ora, il primo moving Ma perché devono rompere il caffo? Perché abbiamo la serie di te Non so, non devi Vai, vai Dopo le giriamo qua Nico, hai capito come shockwaveiamo? Quando vi chiamo la shockwave Occhio Shockwave, 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 usa la, usa la, ok, dai, dj Io sto qua Dai, ma non la salta, va, dai C'è unirci, regalo C'è un team che vuoi? Sveglia Knock uno Mamma mia Ragazzi, mi stanno bugheando Aspettete Io ho 50 mazzi Arrivo, arrivo, arrivo Arrivo da voi, arrivo, da voi Sì, ma mi dovete dare i mazzi Mi dovete dare i mazzi Mi è stato di mazzi Eh, vabbè, gg Knock uno Madonna, Andre, che cazzo di partita della Madonna Boh, vabbè, ma quanto cazzo è diventato forte Andre, mamma mia Raga, dobbiamo tunnelare insieme Stiamo insieme, stiamo insieme Tunneliamo, raga Andre è a un livello tanto più alto degli altri, raga Gli altri non lo vedono cosa sta facendo Gli altri non lo vedono cosa sta facendo perché sono concentrati sul loro gioco E ha un livello allucinante Dovete tunnelare, ragazzi, dovete tunnelare Mamma mia Dovete tunnelare, Dio santo, andiamo Ho 90 mazzi Tunnelo io, tunnelo io, non c'entro manco Attenti dietro, coprite dietro Preto, 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 preto Lì, ragazzi, lì, 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 lì Mi sono suscitato, mi sa Preto un altro, preto un altro Ottimo Sono morto io Mi com'è la lì, cazzo io Poi fa ste cagate C'è da loro, c'è da loro Perché è un babbo Guardate dove sono, non ammazza, ragazzi È migliorato un botto, Andre Non ammazza un logrand No, non ce la facciamo, neanche noi non abbiamo Il resto qua Andiamo sotto, andiamo sotto, Zed Andiamo sotto di Lager Vai C'è qualcuno qua Occhio, occhio, occhio Dei salvo un bel po' Vabbè, ma no, sono morto Joy Jenner Ah Bella Joy Andai davanti, andai davanti Mi devo cercare di curare Fai un box, fai un box 49 Vai Tutto tuo Uno qua sopra Lut, davanti, prendilo Bravo, GG Boxati tutto, Nico, boxati Ok, ok, ok Verranno distrutto uno qua davanti C'è un knock Ragazzi, giocate safe Giocate placement Non riesco, non riesco Tra sto per pingare Giocate placement Nico, ho 400 mass Boxatevi dietro Dammene, dammene 100 Non può, non può Sto per aspettare Sto per aspettare Safe qua C'è del loot di davanti Ok, ok, ok Sì, ma l'AIG col lanciarazzi, regala No, no, no Ok, ok, nice Prendi loot, Nico Nico, prendilo Ehm, come Easy, l'hai preso, l'hai preso L'hai preso Easy Nico è full mass Nico è full mass Faccio uno L'altro mi ha fatto Nico top Nico gioca placement Mo' ti arriva una kill In teoria Ma arriva tra poco la mia kill Stai desisti Nico gioca placement Nico gioca placement Lui è l'ultimo No GG Bravo Nico Bravissimo Fraga, fraga, fraga Vai su in aground Vai dalla safe in aground Puoi andare in aground da dentro la safe Ok, no Fallo giocare, fallo giocare Andrei Sei 1v2 1v2 Puoi provare anche l'e-lof C'è nel senso And-andre lanciarazzi No, mi sa che non avevano colto Puoi fare tutto Vai Fai in aground Vai in aground Vai, stai in safe No, no, no No, Nico Va bene, va bene, va bene Va bene, va bene Va bene, bravo Bravo, i viti Ho fatto un bucino